Qua pupurri di magliette, di colori, di nomi che evocano delle grandi Juventus, poi dietro c'è Vlauvić, non che non sia bravo Vlauvić, ma riporta all'ordine, a quella che è l'attualità. Il presente e questo è il passato. Una cosa che non capisco, e qui Allegri dovrebbe rispondere anche a tanti tifosi bianconeri, Locatelli, l'abbiamo visto per la gran parte delle partite, non azzeccare mai un passaggio oppure non fare un passaggio in profondità. Io mi chiedo perché non si può provare dall'inizio Fagioli in quel ruolo? Ma proviamolo una volta Fagioli, ma in quel ruolo... Non ti convince Locatelli, ok. Trova il corridoio, giusto? Il tiro in porta di Chiesa, largo il numero 7 della Juve, manda a lato. Possiamo dire che la Juve è già un pochino dipendente da quello che farà Federico Chiesa questa sera, perché si vede proprio che è l'unico che inventa lì. Cambiaso, 1-2, Fagioli Locatelli nello stretto, Chiesa, adesso una buona Juve, limite dell'aria, palla per Chiesa! Sfiora il palo, sfiora il palo, ma che bella azione, che bella azione ha un tocco, Juve che va praticamente davanti al portiere. Non è possibile che quando tu hai la palla tra i piedi non ci sia un movimento di incontro, come dicevi tu, mister, non ci sia il pressing alto verso la difesa, non ci sia il movimento corretto da parte dell'attaccante che si smarca. Ho rivisto le stesse partite che ho lasciato la scorsa stagione. Niente in campo, l'unica azione che abbiamo fatto è stata quella lì nel fraseggio stretto, che hanno fatto bene. Poi vabbè Chiesa ha sbagliato il dopo. Ti sembra casuale, perché se la fai una volta in 45 minuti, è troppo poco. Mi sembra che te la sei trovata di bacca. È troppo poco. Poi io sono convinto che Lecce sia arrivato qui a Torino con l'intento di fare la sua partita, ma si vede che non sta premendo. Non gli interessa vincere e portare via i tre punti. Però loro non mi sembrano così in sofferenza. No, no. Tanto da casa sottolineano la bandana in stile Karate Kid di Pavesi. Siamo su nuova stagia. Di solito funziona. Non è Karate Kid. Diventata famosa. Abbiate fede. Di solito funziona. In Giappone impazziscono per la famosa bandana di Valerio. La vendono addirittura da tutte le parti. Pavesi San lo chiamano. Oggi si deve vincere 1-0 in qualche modo. Va a sinistra la Juve. Pavesi c'è una bella mozione, bella o brutta, secondo i punti di vista, una mozione. Comunque a sfavore della tua bandana. Dicono che porta rogna. Ma non hai seguito lo storico, caro tifoso. No, te lo dico. Io te lo segnalo. La Juve ha segnato. Ok. Lascia stare la partita. Va bene, va bene. Te lo dimostriamo su questo corner, caro amico. Cross, secondo palo. Eccolo. Hai visto! Hai visto! Hai visto! Hai visto! Hai visto! Hai visto! E' la rete di Milik! 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 Arcadius Milik! Milik! Guardala bene! Guardala bene! Che è lei! Che è merito suo! Non chiedete più a Pavesi di togliere la bandana perché ha ragione lui. A questo punto l'ha detto, ci ha messo la faccia e la bandana. Io aspetterei un attimo. E c'è il gol. Su di lui Chiesa al disturbo. Non riesce a tenerlo però Cabà vicino alla bandiera del corner. Va via! Chiesa non lo tiene! Aria di rigore! Vai via via via! Cos'è? Rigore? Fischio dell'arbitro! Simulazione! Doppio giallo-rosso! Mai vista una roba del genere! Doppio giallo-rosso! Mai vista una roba del genere! Allora Cabà, giusto, va via sulla fascia. Chiesa che non ne ha più però, cosa fa? Cabà stringe i denti, lo rincorre fino all'area di rigore, c'è un contatto all'ingresso dell'area, Cabà va a terra, l'arbitro arriva, sembra stia dando il calcio di rigore, invece simulazione giallo, secondo giallo e rosso per il giocatore del Lecce. Se me è scivolato! Sì, è scivolato! È scivolato! Non puoi dare il rosso! No, no, no! Allora c'è un corpo a corpo, bene, magari non è calcio di rigore ma siamo tutti d'accordo perché non puoi punire sto ragazzo col secondo giallo perché è andato a terra. Questa prima è stata una fisca giù! Unita? Uno a zero! Ciao, secondo in classifica!